buongiorno a tutti eccoci pronti oggi vi farò vedere come iniziare a lavorare con il pirografo un pirografo semplice economico ma di qualità allora qui vediamo che prima di tutto si prendono delle tavolette di legno va bene qualsiasi legno ma io qui ho usato del compensato prima una bella passata con la carta vetrata fine in particolare io ho usato una carta vetrata con grana p800 o 1000 va bene piuttosto fine verifico poi che non ci siano delle granulosità a questo punto posiziono la carta carbone e il disegno che voglio realizzare lo ripasso con una matita cercando proprio di seguire bene il disegno ma anche indicando il più possibile di particolari ecco quando ho finito tolgo il disegno della carta carbone e mi resta il mio scogliattolo da disegnato a questo punto devo scegliere una punta io sceglierò una punta per il tratto medio anche se ci sono varie possibilità più fine più grosse sfumature stampi io sceglierò una punta media inserisco la spina e aspetto qualche minuto affinché sia caldo il pirografo provo su una piccoletta punta quando è caldo inizio la punta vi aspetto per il prossimo video sempre con nuovi suggerimenti per l'utilizzo del pirografo grazie a tutti alla prossima